Perché formalmente... ...non è esattamente il mio furgone. E di chi è? Di un'amica. Una conoscente, ecco. Diciamo che in verità per me è una perfetta sconosciuta, va bene? Quanta è? Signore, questo veicolo è sotto sequestro. Aspetti al suo interno mentre contattiamo la nostra centrale. Quante. Pronto? Pronto? Penso che sia rotto. Devi premere il pulsante. Qui, 314-200, rispondi. Quel furgone è sicuramente rubato. Dobbiamo arrestarlo. Un inseguimento! Oh, Cristo.